Aspetta, fagli entrare. Allora, è il momento del nostro quiz. Cos'è questa musica? Vieni Paolo, vieni anche Attilio Lombardo, venite qua, ecco siete perfetti. Allora, in che cosa consiste la prova? Molto bene, dovete mimare la scena di un film perché c'è una possibilità anche per voi che avete fallito come opinionisti sportivi di una possibilità come attori a Sky Cinema. Allora, vediamo subito la scena che dovete mimare Attilio e Paolo. Paolo ti fa da spalla ovviamente. Salute, noi non ci conosciamo, però scommetto che con me un lento lo balli. Scusi se legge un po' di supporto dentro i miei occhi ma è per via dei fatti che lei è veramente di una bellezza svolcorrante, è quasi impossibile resisterla. Appunto, com'è che ti chiami? Io? Io mi chiamo Nunzia ma mi faccio chiamare Barbara perché fa più fine, perché Nunzia non mi cagava nessuno, sa un nome meridionale. Molto bene, allora diamo il via al conteggio alla rovescia, poi Attilio so che sei un grande attore con Paolino, vi lascio al set. Salve, noi non ci conosciamo, però scommetto che un lento con me lo balli. Scusi se legge un po' di stupore dentro i miei occhi ma è per via dei fatti che lei è veramente di una bellezza svolcorrante, è quasi impossibile resisterla. Appunto, com'è che ti chiami? Io? Io? Mi chiamo Nunzia ma mi faccio chiamare Barbara perché perché fa più fine, perché Nunzia non mi cagava nessuno. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, chiamiamo Alessandro Pistone, subito Alessandro Pistone che ovviamente la scena del vieni Laura, suor Laura, esatto. Allora vediamo subito la scena che dovete mimare, Alessandro Pistone e suor Laura, la vediamo insieme, guardatevi attentamente. Sorbole, mi pento e mi dolgo. Sorella, sono pronto a recitare l'atto di dolore e a tornare il soldato semplice. Come? Perché scusi? Beh, per i nostri peccati, pentiamoci. Ma di cosa? Di quale peccati? Di quelli che stiamo per commettere. Non si vergogna? Sì, mi vergognerò, ma dopo. Molto bene, molto bene. Adesso parte il coltigione a rovesse e vi lascio a questa grande interpretazione. Sorbole, mi pento e mi dolgo. Sorella, sono pronto a recitare l'atto di dolore e a tornare soldato semplice. Come? Perché scusi? Beh, per i nostri peccati, pentiamoci. Ma di cosa? Quali peccati? Di quelli che stiamo per commettere. Ah, e non si vergogna? Sì, mi vergogno, ma dopo... Bravissimo, molto bene. Allora, venite pure qua. Allora, mi sembra che sono state due interpretazioni fantastiche, devo dire la verità. Allora, io direi, per procedere alla votazione, no, Phantom? Sì. Io farei applaudire subito il pubblico, allora intanto per l'interpretazione di Tramezzani e Lombardo, intanto applauso. Laura Esposto e Alessandro Pistone, applauso. Cosa dici, Phantom? Io direi che c'è un pari sostanziale. Sì, è una prova a spareggio a questo punto. Allora, facciamo una prova a spareggio. Allora, la prova a spareggio riguarda Attilio e Alessandro, alzatevi. Allora, vediamo il film che dovete mimare, vediamolo insieme. Vai, vai, poi col film. Oggi ho 40 anni e non ho fatto una sola cosa di cui andare fiero. Continua a mangiare questa torta e al 50 sarai un rotolo di lardo. Sempre se ci arriva è 50. Oh, buon compleanno vecchietto. Perché non fuggiamo via insieme? E dove? Allora, un attimo, facciamo una prova. Vieni qua, vieni qua. La panna, eccola qua, perfetta. Ecco qua, perfetta. Ottima. Allora, tenetemi la panna, allora vai. Vai. Quanto cosa? Ma scherzavamo, dai, ho pensato bene, la panna. Allora, andiamo avanti. Skyport 24 già ne abbiamo. Come? Skyport 24.